Il suo di Grinch 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 un canzone questo scopo ci dà un po' di robetta però qua vai bene? beh tu dici insomma non stava meglio scar qua io ancora l'ho trovata manca una borsa e io manca la borsa l'ho trovata vado vado via vado le munizioni vado via 416 c'è la scarra vado troppo l'esimo la scarra safe siamo dentro vado trovate una borsa oh qua stanno le borsa vado vado trovate il cecco intendi la strada del cecchino vediamo vediamo un po' questo sotto tutto siamo proprio al limite della safe però quindi quindi dobbiamo cominciare a rientrare andiamo andiamo verso queste case qua appena vuoi partiamo aspettando sto ecco ti sto a seguire vai verso il marker giallo quindi la est è questo è un altro cecchino m24 se ti piace c'ho lm lk questo qua è meglio ok e non me la fa montare le cose ciao pa ciao dd ciao presidente te saluto va ci sto ah spado si spado in co perchè si è piata la cosa che trai all'erba va bene non guarda dove sto giù va bene sto di mk47 e car r98k con l'8x l'8x amata momma qua qua le porte sono chiuse e si fa vai a quella piccola io la mappa blocchetti lo spado lo spado lo spado il giubbetto ce l'hai che che non l'ho che l'ho lo spado lo spado lo spado qua ci sta ci sta ci sta in l'ho il lo spado lo spado lo spado e lo spado il vetro che si sparavano qua verso tre verso nord proprio ero tutto il vetro non c'è un maniglia eccoli aspetta ha agliappato la cipolla devo non so l'ha per terra allungato che bello 355 vedi si riesce a fare di headshot se lo hai ficato sotto fai headshot un altro per tanto è quello che vuoi venire a fare un gioco sta ficato sotto un po' ci manca a cogliere che lì ok ok c'è un uomo ma qua c'ho fatto oh di fronte di fronte le spalle ce l'hai di di ok ah io ho anche le spalle ok quando stai c'è un uomo c'è un uomo c'è un uomo dietro 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 c'è un uomo 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 oh ok c'è un uomo c'è un uomo c'è un uomo oh verso la casa verso la casa eccola headshot si è KO però non è muo' sta sotto il muretto là l'hai preso? si penso ti ha dato la kill a te però giusto? si 2 kill infatti io vado a vedere se quello là sopra c'è qualcosa non lo metto sempre qua anche sento comunque lo mio casco ce l'ho munizioni ci sta oh ce ne sta un'altra la casettina piccola quella casetta? quella dietro di te quella a 320? si quella proprio a nord cioè a me sta a nord ho visto passare là dietro potrebbe spuntarti sulla tua destra però attenzione 표현ativo ecco capò ah 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 devo curare un altro po' mi cuore pure io un altro po'? no, mi puoi andare in ziff fra due minuti si chiude e sta lontanissimo, chi ha passato a sta jeep? prendi la macchina aspetta, mi sto a fare una cura non ho capito perchè le pende non si tirano vai vai vai, segui da tu va, va va e che c'è sta penna ok, parliamo va bene a tracciò questa manda è giusto però no, vai segui la linea tratticciata sulla mappa tu qua, io qua ci sono wow no, vai tutto a testa ok forse un po' perché ci cadi nel fiume? perché ci cadi nel fiume? come va ma è un po' vediamo qua per fare un po' legato il vento dopo il secondo ponte a sinistra oh oh sinistra Bılar... Va, conosco il misure... Perfetto... Qua ci vanno a fare, a poco, e li fate... Bueno, asciugate. Zaino livello 2, se serve... Passa da dove esiste, carro? Vai, dobbiamo gewiddi con questa motocicletta... Andiamo al sopra il tetto della casa, ma le bombe come si vanno? Le devi selezionare, non c'è un tasto rapido, questa è un'altra M24. Oh, vai sul tetto! Visto che c'è il cecchino a occhio, arriva qualcosa... ... 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